Il testo è tratto dal libro Quaderni dal 1945 al 1950 di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. 1 novembre 1947, ore 10. Seguo la santa messa trasmessa da Radio Francia. Sento nominare le dodici tribù, coi loro dodicimila segnati. Dico. Mi toccherà un giorno, signore, essere fra essi. Per godere te, non per avere celebrazione sulla terra, lo sai, ma mi pare di aver fatto sempre così poco e così male. Mi risponde il mio dolce Gesù. Più ancora che per i tuoi meriti personali, dei quali sono forti e degni di questo luogo, sollecitamente l'amore e il dolore, tu vi perverrai perché molti hai salvato, e salverai col tuo olocausto e con la tua missione di portavoce. Stai in pace. Coloro che per te vengono a questa pace, e io li conosco in anticipo, ti costruiscono il trono su cui sarai beata. Ricorda, è parola della sapienza. Coloro che insegnano la giustizia alla moltitudine risplenderanno come stelle per tutta l'eternità. Tu, reclusa e crocifissa, sei un piccolo maestro dal volto nascosto. Non ti conosce il mondo, ma ciò che hai imparato da me, per insegnarlo al mondo, ti ascrivi alle schiere di coloro che insegnano la giustizia alla moltitudine. E perciò ti verrà dato ciò che è promesso a Daniele, per parola dell'Arcangelo Gabriele, il messaggero di Dio. Stai in pace.